Grazie a voi per esserci così vicini, io ufficialmente porto a Emil Bambà il saluto della società, il benvenuto a Palermo, il benvenuto nel Palermo calcio, non ho molto da aggiungere rispetto alle caratteristiche tecniche e al curriculum del calciatore che parla da solo, piuttosto devo dire che questa operazione è un'operazione che è maturata in questi giorni e che noi stiamo seguendo dall'inizio e da diverso tempo e quindi è un'operazione che rientra appunto nel progetto tecnico di campagne acquisti che la società ha voluto portare avanti e sono ovviamente molto soddisfatto che si sia completata e che si sia giunta in questo momento a compimento, siamo riusciti a concluderla, unitamente a quelle che voi sapete di Gonzales ed Emerson che si uniranno al nostro gruppo nei prossimi giorni appena avranno completato il disco, quindi un grande benvenuto, ho avuto modo di parlare con Bambà e di raccogliere la sua personale soddisfazione per questo nostro progetto e per questa destinazione, quindi siamo molto contenti di averlo con noi, siamo molto fiduciosi del lavoro che il nostro staff tecnico, del nostro staff societario, del nostro staff sta compiendo in vista appunto della prima di campionato che ci vedrà impegnati fra qualche giorno e che affrontiamo con grande fiducia e con grande convinzione nei nostri mezzi e nelle nostre capacità.